Un escursionista di 64 anni di Prato è morto dopo essere caduto dalla cresta della Penna di Lucchio, vetta nel comune di Bagni di Lucca, che si eleva a 1176 metri oltre il livello del mare. L'uomo era assieme ad un altro escursionista che l'ha visto precipitare dalla cresta. La caduta, per circa 200 metri, è avvenuta lungo un pendio molto ripido, caratterizzato da vegetazione fitta. Sul posto gli uomini della stazione di Lucca del soccorso alpino e l'elicottero Pegaso 3 con il medico del 118 per agevolare il recupero della Salma.